WhatCountry è un'applicazione dedicata ai paesi del mondo che soprattutto però presenta contenuti nel nostro continente. I paesi europei sono abbastanza rappresentati mentre quelli degli altri continenti veramente scarseggiano. Ma per ogni nazione le cose essenziali per ora disponibili si riducono un po' a pochi stereotipi. Diciamo che la curiosità e la superficialità sono le caratteristiche fondamentali dei contenuti che si possono osservare. Se per esempio prendiamo l'Italia, subito il sommario ci dice che abbiamo la mafia, i guidatori pazzi, gli scooter, la pizza e poche altre cose. E' un fatto che i contenuti appunto appaiono di una povertà disarmante e forse volendo essere un'app 2 dovremmo aspettare parecchio prima che gli utenti arricchiscano questa app dei contenuti un pochino più sostanziosi e decenti. La procedura per caricare una foto è abbastanza semplice e funzionale in quanto la foto che si vuole caricare la si prende dall'album delle foto del proprio dispositivo e viene data una risposta che verranno esaminati i nuovi contenuti entro 48 ore. Questo non l'ho ancora verificato. L'importante è che poi accanto alle foto vengano anche aggiunti contenuti scritti adeguati. Quindi se le valutazioni degli utenti hanno un senso speriamo che esse servano a migliorare questa app.